Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora oggi trucco super 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 naturale, sono stata un po' pigra nel trucco ma volevo fare una cosa un po' più portabile del mio solito, in realtà questo per me è poco trucco per i miei standard in realtà per una persona normale molto probabilmente sarebbe tanto, però ho fatto solo base, un po' di contouring ho fatto le sopracciglia e ho messo solo un ombretto marroncino, il mascara e il rossetto opaco rosato non può mai mancare, non può mai mancare ed è quello che gli ho usato anche al nostro matrimonio tra l'altro sono stata pigra anche nell'acconciare i capelli ma oggi erano un po' piatti quindi li ho raccolti su in questo chignon un po' messy bun, però mi piace devo dire quindi questo in realtà è un video super super speciale, è un video annuncio voi mi chiedete sempre di fare incontri, sempre di organizzare meet and greet, meet ups eccetera e io quando ho l'occasione lo sapete lo faccio sempre anche quest'anno sarò al Cosmoprof quindi anche quest'anno al Cosmoprof ma quest'anno ci sarà qualcosa di molto speciale perché ci sarà un mio incontro al Cosmoprof io non vedo l'ora di incontrarvi tutti, sono troppo troppo felice di poter darvi questa notizia oggi lo sapete il Cosmoprof è a Bologna quindi io vi aspetto, adesso vi do tutte 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 quante le informazioni io vi aspetto il 17 marzo dalle ore 15 alle ore 18 presso lo stand NYX Professional Makeup adesso vi spiego anche dove si trova lo stand perché lo sapete il Cosmoprof è gigantesco quindi vi do qualche indicazione per riuscire a trovarmi subito ecco lo stand si trova nel padiglione 22 ma all'esterno ha infatti una tensostruttura propria così mi hanno detto, attaccata al padiglione e ben visibile perché è tutta brandizzata anche dall'esterno quindi dove vedete NYX NYX come lo pronunciavo tantissimo tempo fa come ho iniziato su YouTube NYX Professional Makeup dove vedete il brand lì ci sarò io e come al solito, come al solito quando organizzo gli incontri mi piace sempre potervi regalare farvi qualche sorpresina quindi, quindi ci sarà anche qualche sorpresina non vi anticipo niente, non vi svelo altro però per tutte le partecipanti ci sarà qualche regalino ci sarà anche un corner foto per poter stampare la propria Polaroid quindi sarà una cosa molto carina, magari riusciamo a farci anche qualche Polaroid insieme sarebbe carino, sarebbe carino e altra cosa, durante tutta la durata del Cosmoprof presso lo stand NYX quindi non solo durante il mio incontro ci saranno anche sessioni di make up gratuite quindi potete andare a farvi truccare e andare a imparare qualcosina di nuovo sul make up come al solito ve lo dico perché mi viene sempre 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 richiesto la partecipazione è completamente gratuita se volete venire a conoscermi, farvi una foto con me, semplicemente chiacchierare con me o farmi qualche domanda o portarmi il vostro libro a firmare cioè qualsiasi cosa, se volete anche solo venire a vedermi dal vivo per una volta perché magari non mi avete mai visto dal vivo potete farlo completamente gratuito non si deve pagare niente né per presentarsi né per poter parlare con me assolutamente assolutamente niente quindi io vi aspetto, ricapitoliamo tutto quanto il 17 marzo al Cosmoprof a Bologna presso lo stand NYX Professional Makeup dalle 15 alle 18 non vedo l'ora, non vedo l'ora di vedervi sono sempre super 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 emozionata prima degli incontri mi raccomando se venite scrivetemelo nei commenti mandatemi un messaggio privato, un commento in modo che io possa sapere se venite, chi viene eccetera perché sono davvero troppo felice poi mi sa che era un po' di tempo che non facevo incontri quindi insomma la cosa mi rende super 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 felice poi dal Cosmoprof con un brand come NYX che io amo da sempre praticamente mi ricordo ancora quando lo acquistavo su internet perché tipo in Italia non esisteva quindi insomma spero che siate contenti che sono riuscita ad organizzare questo incontro lo so che vorreste che venissi anche in altre città e io vi prometto come al solito faccio del mio meglio se c'è un'occasione io la colgo sempre se c'è un'occasione di poter organizzare un incontro in qualsiasi città io lo faccio capita purtroppo molto spesso e lo sapete in città più grandi come Milano, come Roma questa volta a Bologna in occasione del Cosmoprof ma io cerco davvero di venire in tutte le città d'Italia mi piacerebbe tantissimo però ovviamente devo avere l'occasione e deve esserci un'organizzazione dietro lo sapete come funzionano queste cose quindi credetemi se dipendesse da me farei tour costantemente in giro per l'Italia a venire a conoscervi perché è la cosa più bella in assoluto la cosa più bella è proprio questa conoscervi, passare del tempo con voi come vi dicevo prima possiamo scattarci una foto potete semplicemente venire anche se siete timide non siate timide, non siate timidi vi prego perché già io sono abbastanza timida dal vivo anche se magari non sembra in videocamera ma io ho iniziato a fare video proprio perché ero molto timida, non riuscivo proprio a parlare ad esternare quello che provavo a parlare in pubblico a parlare anche con gli altri cioè facevo fatica youtube mi ha aiutato molto ma fidatevi che con la videocamera una cosa dal vivo sono anch'io timida quindi vi prego, vi prego non siate timidi venite ad abbracciarmi a chiacchierare con me perché io sarò lì per voi quindi qualsiasi domanda magari ve la scrivete magari mi scrivete sempre commenti e messaggi non vi ho mai risposto perché lo sapete quanti commenti e messaggi mi arrivano quindi avrete l'occasione di farmi domande dal vivo di chiacchierare con me di chiedermi consiglio ci sarà anche un momento comunque in cui verrete a conoscermi e potremo stare a quattro occhi quindi potete parlare con me anche abbastanza privatamente tra virgolette ovviamente ci saranno altre persone però potrete venire vicino me e parlare con me quindi sono davvero sono felice l'ho detto 50 volte in questo video mi raccomando mi raccomando fatemi sapere se venite perché ci tengo davvero tanto 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 spero verrete in tantissimi quando faccio questi incontri ho sempre paura di non avvisare per tempo che non lo so che youtube non mandi il video e le iscrizioni e poi voi non lo sappiate perché molte volte quando organizzo gli incontri dopo mi viene detto ma tu non l'hai avvisato per tempo pure tu e io non lo sapevo se non sarei venuta e quindi spero che questo video vi arrivi con abbastanza anticipo ma oggi è il 2 marzo quindi credo che dal 2 al 17 abbiamo abbastanza tempo anche se non è tantissimo però penso che possiate organizzarvi eccetera magari alcuni di voi già vengono al cosmo però sappiate che io sarò lì per incontrarvi tutte quindi questo è tutto questo è tutto ragazzi e ragazze io vi aspetto troverete comunque tutte le informazioni anche qui sotto nel box informazioni vi metterò giorno ora e luogo dove ci vediamo a Bologna non vedo l'ora non vedo l'ora non vedo l'ora ragazzi allora adesso sì io perché ho questo trucco leggero e questa pettinatura molto easy e molto sporty perché stiamo per andare anzi stiamo per andare in realtà partiamo stasera ma stiamo per andare a Parigi stiamo per andare a Parigi e io sono troppo troppo felice perché riesce a venire anche Tomash con me perché è il weekend perché riusciamo a combinare con il suo lavoro e dopo l'ultima iniezione al ginocchio sta già molto molto meglio questo video sta diventando un po' un vlog notato però insomma sono lo sapete io viaggio anche da sola spesso però sono molto molto felice perché riesce anche Tomash a venire con me e poi avremo autista eccetera quindi non dovrà muovere troppo il suo ginocchio siamo molto contenti sono molto contenta questo è quanto insomma io vi aspetto praticamente tra 15 giorni quindi non vedo l'ora non vedo l'ora ragazzi ragazzi vi saluto perché questo video sta diventando imbarazzantemente lungo un bacio grandissimo scusatemi se oggi l'unico video che ho caricato è stato questo ma appunto sono in partenza per Parigi e ho pensato comunque di voler caricare prima possibile il video dell'annuncio in modo che voi possiate organizzarvi eccetera eccetera quindi insomma fatemi sapere nei commenti se venite ci spero tanto non so quando riuscirò ad organizzare un altro evento quindi anche se magari non siete proprio di Bologna ma potete raggiungerla mi farebbe tanto 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 piacere basta mi autoblocco mi fermo da sola stoppati sto perdendo anche la voce un bacio come i concerti un bacio grande ragazzi mia family abbraccio abbraccio spero di vedervi presto ciao ciao